vediamo un po' dove ero rimasto oh caro caro capitano uncino non si interrompe un cantante nel bel mezzo di un acuto non è educazione educazione ha detto spugna tuori e fulmini ti mostrò forse educazione Peter quando mi fece questo ben detto capitano quella di tagliarvi la mano fu soltanto una monelleria si ma poi la gettò al coccodrillo e quella bestiaccia trovò così saporita la mia carne che da allora non fa che corrermi dietro con l'acquolina in bocca per la voglia di tutto il resto a quest'ora mi avrebbe già sgranocchiato se non fosse per quella sveglia che ingoiò dopo e che quando lui si avvicina ci mette subito sull'avviso con il suo tic tac tic tac tic tac tic